cari amici ben ritrovati juventus una signora per due appuntamento dedicato a un tema importante Ezio buonasera ciao a te massimo e ciao a tutti gli amici di juventus una signora per due che naturalmente invitiamo all'iscrizione assolutamente perché ci fanno tantissimo piacere i vostri conventi ma ragazzi abbiamo bisogno di iscrizioni dobbiamo arrivare a mille entro la fine del mese quindi siate generosi allora due temi importanti il primo è il presunto peggioramento ma non troppo presunto di Dusan Vlaovic Ezio l'abbiamo visto in calo in calo di gol ma anche in calo sembra di spirito no di come dire di animo l'abbiamo visto estremamente intristito per una sostituzione che tra l'altro ha suscitato l'ilarità di alcuni cronisti polacchi mi sembra di alcuni cronisti polacchi che peraltro avevano previsto ma non c'era niente di più facile quel tipo di sostituzione e ovviamente hanno espresso la loro soddisfazione per l'esatta profezia sghignazzando e ovviamente deridendo il cosiddetto leader minimo Dusan Vlaovic si è progressivamente è stato fatto progressivamente involvere fino a diventare la parodia del centro avanti da una parte che giocava nella fiorentina e che ha dimostrato di essere in quelle prime due tre quattro partite giocate con sotto la nostra sotto la nostra egida prima che il peggioratore l'uno trainer quello che dove passa l'uno non lasciano non cresce più gioco e radia al suolo il talento evidentemente evidentemente è stato contaminato dalla mentalità di questo allenatore e di questa squadra che chiaramente dimostra chiaramente in ogni partita di non giocare per mettere il proprio terminale in condizioni di fare gol tant'è che l'attacco della Juventus prima dell'arrivo di Vlaovic e dopo l'arrivo di Vlaovic è stato esattamente non pungente allo stesso modo massimo sì perché ha cominciato molto bene come carattere e anche come gol poi qualcuno dà la colpa a io ti faccio solo una come dire un'ipotesi 4 2 3 1 potrebbe essere uno schema idoneo per l'usano vlaovic perché qualcuno deve nessuno crossa non arrivano palloni l'unico che verticalizza paradossalmente lo abbiamo visto in ultima partita con l'imponente venezia e mi si passi la battuta e bonucci e questo è francamente una cosa che lascia tutti un po interdetti no ezio sì questo è vero però secondo me non è una questione di schemi gli schemi che devono esserci perché comunque sono la rappresentazione sul campo di idee e di cose provate in allenamento però non è tanto solo una questione di schemi quanto una questione di propensione della squadra a giocare un tipo di calcio diverso allora la juventus è una squadra che corre all'indietro è una squadra che si perde in stucchevoli passaggi laterali scimmiottando un tiki tacca però prettamente difensivo e non crea mai sbocchi per le punte che tra l'altro non si cercano perché mi pare anche abbastanza acclarata indipendentemente dalla totale assenza di gioco la poca compatibilità tra morata e dusan lauris quindi non è solo una questione di di schemi una questione di che cosa si vuole fare di questa juve di come si intende il calcio che si può intendere in tanti modi si può intendere alla maniera di club si può intendere alla maniera di guardiola sono due modi diversi di affrontare le partite ma devono questa squadra deve avere un'impronta e soprattutto deve giocare in modo che i suoi migliori elementi possano risultare determinanti quindi quello schema per te non è ma ti dico non è una questione di schemi può andar bene un 4 3 3 può andar bene anche un 4 2 3 un 4 2 3 1 dipende dipende poi a da chi li applica questi schemi e b con quale con quale propensione con quale stile di gioco gli si vuole gli si vuole praticare e qui purtroppo entra 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 in causa come dire l'anacronismo il il jurassic football di un allenatore che i tempi l'europa ogni persona di buon senso ha già bocciato come è archiviato come pensionabile qualcuno ha detto la nostra rosa è inferiore almeno a cinque squadre della serie a quindi milan inter roma lazio mi sfugge l'ultima probabilmente no non ci credo la nostra non è una rosa centrocampo probabilmente abbiamo qualche problema togliamo il probabilmente il resto non mi sembra una rosa così inferiore anzi non lo è per nulla però una chiosina massimo ancora sul chiosa permettimi di farlo e allora premesso che e l'ho detto subito io ritengo dusan vladic un grande ma veramente grande centravanti con potenzialità per diventare un grandissimo è però pur vero che queste potenzialità o lo si mette in condizioni di affinarle di migliorare di farle emergere ed esplodere in tutto il loro fragore o altrimenti e comunque non alla juventus diventa il classico centravanti forse alla immobile che farà qualche gol nella nella banana league ma che a livello internazionale che è quello che a noi interessa perché guarda massimo io ti dico il prossimo anno la banana league è già segnata e la vincerà la juve ma con questo ma con questo con questo non significa che jj sarà ritornata una grande squadra e che se che sarà una squadra di livello europeo dipende da cosa si vuole fare da grandi questa era la chiosa sulla rosa sulla rosa guarda questa rosa che è stata dei venti rosa dei venti che raramente che raramente è stata le 21 e sovente anche più corta con meno petali tanto per rimanere in ambito floreale a mio avviso non è una rosa inferiore nella globalità a quella di tutte le altre squadre italiane fatta eccezione per l'inter che è meglio coperta in determinati ruoli e in determinate posizioni del campo questa rosa purtroppo non non allenata mandata mandata allo sbaraglio soprattutto durante le prime partite di campionato pur senza un gioco pur pur anzi nonostante chi c'è in panchina e comunque riuscita facendo beninteso schifo è calcio al calcio al calcio complice complice la mediocrità sesquipedale di tutta la di tutta la concorrenza a mettere insieme 20 partite utili delle ultime delle ultime 21 e quindi a testimoniare che bastava non compiere sceleratezza e scemenza nella prima partita per mettere in bacheca anche l'ennesimo l'ennesimo frutto non per quello ti dico è già assegnato per quello che ti dico questa rosa in ogni caso con un allenatore vero si sarebbe aggiudicata il campionato in anticipo o estrema razio sarebbe lì lì per vincerlo però ti dico stante scusate se mi ripeto ma veramente la miserrima condizione di questo torneo di ferdi periferia e di passare la famosa banana league cioè anche vincerla non attesta uno status di squadra che in europa possa dire qualcosa ed è per almeno personalmente credo anche a massimo ea tante persone che mi seguono ed è quello che ci interessa se poi come ci siamo sentiti dire l'obiettivo principale deve rimanere e rimane il campionato e allora ci consegneremo a una sana rassegnazione e per amore dei colori per questo virus inestirpabile che 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 l'amore per la nostra squadra del cuore continueremo a seguirla sperando ovviamente che faccia il meglio che può ma andremo a vedere il calcio da un'altra parte potevamo chiamarlo il canale una banana per due no battuta a parte sottotitolo non oltre la legge è veramente bella amici amici allora iscrivetevi al canale ci fate cosa molto gravita ricordatevelo naturalmente continuate a seguire ci interagite con noi juventus una signora per due ma una domandina posso fartela io prima di congiugliare congiugliare tutti quanti ma secondo te queste tre ultime partite che mancano visto che c'è qualcuno che si gioca la salvezza o oppure se un accesso anche nell'europa minore la juve disputerà tre partite serie oppure ormai fatta salva quella di coppa italia per il resto saranno tutti mentalmente in vacanza secondo me saranno tre partite semiserie cioè faranno finta di impegnarsi malamente già altrove ci siamo salvati e quest'anno è andata così iscrivetevi non ti ho chiesto come stavi in forma rodomontesca me me co come si diceva ai tempi ci vediamo attualmente nei prossimi appuntamenti e già online l'intervista felipo ballone arriverà anche lionello savassa e arriverà anche calonesti oltre naturalmente ai nostri appuntamenti se noi veniamo lì col contratto di allegri rinnovato per altri quattro anni dai due più due non deludetemi ciao grazie